Buongiorno, sono Cristian Crotti e sono rappresentante della CPDS. La CPDS è un'opportunità perché è un dialogo che si tiene tre volte l'anno, che permette agli studenti di parlare direttamente con i professori, quindi il Comitato Paritetico Docenti e Studenti. È un'occasione molto importante perché in questi tre momenti annuali gli studenti e i professori possono relazionarsi in maniera paritaria, quindi non ci sono situazioni gerarchiche o nessuna situazione che non permette il dialogo aperto e libero e questo fa sì che il confronto possa portare anche a migliorare il corso stesso, a introdurre nuovi cambiamenti, a comprendere quelle che sono le esigenze vere degli studenti e come tale posso testimoniare che la CPDS è veramente un sistema efficace che ha portato anche a completa rivoluzione del corso di studio.